oggi vi faccio io e voi a me la compagnia alcuni alcuni già ci conosciamo il nostro autista di oggi si chiama valerio grande forte e coraggioso buongiorno a tutti e buona domenica oggi a chisina siamo in gita allora adesso siamo arrivati a visitare un museo è l'unico museo diciamo in europa di candele che sono una collezione del proprietario di questo ristorante perché è un museo ma anche un ristorante dopo andiamo a mangiare dall'epoca di pietra e andremo anche a visitare orcheo in vecchia che è una delle zone bellissime di chisina o anzi la seconda location che viene consigliata ai turisti appunto di di visitare ciao non c'è non lo scelta mucho tiempo ma non voglio perdere lo che c'è da seguimos sempre la passione e confiiamo solo in amore non voglio perdere lo che c'è da a travesse la gran oscurità asta che me convierta erai e queste sono le candele più vecchie che hanno da 150 a 210 anni è una candela hand make fatta a mano di tantissime candele che sono bruciate e allora diverse persone mettevano la candela sono Grazie a tutti Un'altra volta A chi ci vuole male Bravo Ragazze attenzione La nostra gita sta proseguendo bene Abbiamo già pranzato Presso il caffè E adesso stiamo andando A vedere il monastero La strada è un pochino faticosa Però Ce la faremo Una piccola quantità Allora La nostra gita di oggi È finita Alla grande Come sempre Adesso Andiamo verso casa Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao